Diventare ed essere madre in Italia oggi è complesso. Da una parte mancano i servizi per l'infanzia o sono troppo costosi. I congetti di maternità e paternità non sono equivalenti. Il mercato del lavoro instabile e l'incertezza economica non aiutano la genitorialità. Dall'altra c'è ancora una forte divisione tradizionale dei ruoli, con la cura sbilanciata sulle spalle delle donne. È un intreccio, una spirale di aspetti culturali e strutturali che si rinforzano e alimentano. Il mito della maternità, che vuole le donne madri, presenti, dedicate, perfette, schiaccia chi è madre e giudica chi non lo è. Mentre la prima parte della rivoluzione di genere si sta seppur lentamente compiendo, con le donne sempre più presenti nel mercato del lavoro e nello spazio pubblico. La seconda fase, che vuole gli uomini più attivi nella cura, nella sfera privata, è oggi lasciata alle iniziative individuali. La cura, d'altronde, è ancora una questione prevalentemente familiare e dunque femminile. In questo libro parlo dei limiti culturali e strutturali che contribuiscono al costante calo della fecondità, che caratterizza ormai da decenni il nostro paese. C'è la necessità di un cambiamento che coinvolga non solo tutti i generi, ma anche tutte le generazioni. Non puoi infatti prescindere dal coinvolgimento delle generazioni che ad oggi hanno ancora in mano il potere decisionale. Hanno un ruolo importante, anche all'interno delle famiglie, e troppo spesso una visione tradizionale dei ruoli. Questo libro, dunque, parla della complessità di percorsi lavorativi e personali delle donne, dei diversi modi possibili per diventare e poi essere madri, e propone una riflessione sugli ostacoli da superare.